Ciao, sono Alessandra e lavoro in SGB HumanGest, mi occupo di controllo di gestione. La mia azienda è molto attenta al benessere dei propri dipendenti e infatti garantisce a tutti noi, attraverso un esclusivo piano welfare, un permesso retribuito nel giorno del nostro compleanno. Direi proprio una bella opportunità per dedicare un po' di tempo a noi stessi e trascorrere questa giornata in serenità e in compagnia delle persone per noi importanti. Grazie SGB! Grazie a tutti!